Allora, sono a Bassano con Garage Nardini per una residenza della mia nuova creazione, Vega. Vega parla della personalità che ha bisogno, bisogna di essere realistico o realistica e andare con la fantasma, il mito. Sono una persona normale, ma dentro io sono anche un mito. Ho bisogno di lasciare questa persona. Ho lavorato con la comunità di Dance Well tre volte, lunedì, venerdì e lunedì, venerdì, lunedì e venerdì, perché ho bisogno di rincontrare la danza con il professionale, ma con il non professionale anche. Io penso che la danza è un pretexto per vivere, è un pretexto per vivere senza troppo pensare, è un pretexto per lasciare l'energia e la spiritualità che abbiamo dentro il corpo, dentro l'anima e dentro la spiritualità. Anche facciamo un workshop il sabato con tutti i bassanesi, professionali, non professionali, anziani, giovani. Speriamo che il sabato il 13 è la possibilità di presentare un piccolo risultato, grazie, di questi workshop. Allora, il sharing della comunità è alle otto e mezzo. Otto e mezzo è il sharing della creazione, è alle nove. Grazie.